Dal Vangelo secondo Matteo Dopo che la folla ebbe mangiato, subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte in disparte a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca, intanto, distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento, infatti, era contrario. Sul finire della notte, egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero, è un fantasma, e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro, dicendo, Coraggio, sono io, non abbiate paura. Pietro allora gli rispose, Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque. Ed egli rispose, Vieni. Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque, e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì, e cominciando ad affondare, gridò, Signore, salvami. E subito Gesù tese la mano, lo afferrò, e gli disse, Uomo di poca fede, perché hai dubitato? Appena saliti sulla barca, il vento cessò, e quelli che erano sulla barca, si prostrarono davanti a lui, dicendo, Davvero, tu sei figlio di Dio. Parola del Signore Buongiorno a tutti. Oggi siamo alle prese con un Vangelo davvero ricco. Credo che questo sia l'aggettivo più adatto, perché ricca in sé una pienezza davvero con pochi uguali, in termini di profondità, di contenuto, e soprattutto di ricchezza di significato, sia in termini letterali, ossia riferiti all'episodio in sé stesso, per come realmente accaduto nella storia, sia in termini anche allegorici, ossia per le similitudini e anche gli accostamenti metaforici a cui esso si presta. E con riferimento a questi ultimi, mi viene da condividere con tutti voi quello che a me questo brano ha spesso suggerito al cuore. Ossia che mi sembra, proprio per come è strutturato e per come si sviscera, per come si realizza in sé stesso anche nell'arco del tempo, una bellissima metafora della vita umana. E quindi in questo senso un qualcosa in cui possiamo leggere con speranza e anche con gioia la nostra esistenza personale. Come inizia? Che Gesù si separa dai discepoli, li fa salire sulla barca e ordina loro di indirizzarsi verso la riva opposta. Già qui mi viene un po' al cuore questo discorso dell'esistenza umana perché in fin dei conti la vita umana è un viaggio e un viaggio che si presta molto bene ad essere equiparato ad un percorso marittimo. perché è un viaggio che è certamente difficile, spesso, è un viaggio che va verso l'ignoto ma che nel suo stesso incedere incede nell'ignoto e quindi una superficie acquatica è quella che si presta al meglio perché noi di ciò che c'è sotto di noi nella nostra vita sappiamo ben poco proprio come una barca che galleggia sul mare. E in questo viaggio ci sembra spesse volte che Dio non sia presente proprio come in questo caso in cui Gesù fa andare i discepoli ma sembra che sia distante da loro distante certamente in termini fisici ma non col cuore non con lo spirito. E come continua questo episodio? che i discepoli partono e Gesù sale su un monte a pregare quindi sale in alto proprio dove immaginiamo che sia ora e lì però non rimane inoperoso lì prega e se prega lui che è l'amore prega certamente per tutti coloro che ama ossia per ognuno di noi che sta vivendo la propria vita su quella barca su quella barca che è venuta la sera mentre Gesù è ancora lontano lassù che prega deve affrontare le ore notturne navigando quanto a volte la nostra vita è simile ad una barca che deve navigare in mezzo al mare agitato dalle onde e senza vedere bene davanti a se stessa ci possiamo orientare come? guardando in alto guardando verso le stelle ossia guardando in alto guardando verso Dio perché come le costellazioni durante la notte rimangono ferme e ci indicano la strada verso la nostra destinazione così il nostro Dio è lì è lì è presente e ci indica attraverso Gesù quella che è la direzione e cosa succede a questa barca in questo episodio? come abbiamo visto che è agitata dalle onde che il vento è contrario quindi faticano a procedere quante volte la nostra vita è così che ci sembra che tante cose ci vengano contro ci sembra magari di essere andati un po' avanti e poi ci rendiamo conto di essere in realtà andati indietro e questa cosa talvolta scoraggia talvolta suggerisce al nostro cuore una disperazione ma ne vale la pena procedere nella vita anche se il vento è contrario se le onde sono alte se sembra che così tante cose si coalizzino per certi versi contro quella che è la direzione che mi è stata indicata dal mio maestro e tutta la notte passa così quindi qui viene descritta una vita che è difficile eppure non è l'ultima parola perché sul finire della notte proprio quando sta per spuntare l'alba c'è ancora buio ma la speranza del nuovo giorno c'è ed è vera perché sta arrivando Gesù arriva e come arriva? in un modo che spesso nella nostra vita sembra assurdo sembra impossibile sembra insperabile arriva camminando sul mare arriva camminando proprio su ciò che ci sta facendo dannare su quelle stesse onde che sono alte per noi e che ci creano difficoltà sta nel cammino lui invece tranquillamente cammina e cosa importantissima si mostra a noi lui viene verso di noi viene verso la barca della nostra vita e si fa presente e anche noi come i discepoli però abbiamo una prima reazione che è un po' sconvolta perché vedere qualcuno che cammina sulle acque quando c'è ancora un po' di buio ovviamente ti fa impressione e i discepoli si spaventano e credono che sia un fantasma così anche noi a volte quando Dio si fa presente nella nostra vita in un modo in cui magari non ci aspetteremo possiamo avere una prima reazione iniziale di sconcerto e magari anche noi essere spaventati ma ecco cosa fa subito Gesù con noi e con i suoi discepoli con ognuno di noi parla a noi parla a loro e dice coraggio sono io non abbiate paura no? quindi fa proprio ciò di cui loro hanno bisogno di cui noi abbiamo bisogno lì ci rassicura ed ecco poi il dialogo tra le due persone Pietro quello che è il più testardo di tutti l'uomo dei grandi slanci l'uomo che vorrebbe sempre fare più degli altri per il suo maestro ma che è anche l'uomo che dimostra negli episodi chiave più paura o meno equilibrio rispetto agli altri che dice a Gesù signore se sei tu comandami di venire verso di te sulle acque no? Pietro chiede una ulteriore rassicurazione attenzione Pietro qui non si rivolge a Gesù come gli scrivi come i farisei come tutte quelle persone che chiedevano a Gesù un segno quale condizione per credere in lui ma qui Gesù chiede una rassicurazione a Gesù in qualità di cuore che ama e che chiede all'amore di essere manifesto nella sua vita quindi è una richiesta che è legittima che ci sta è la legittima richiesta che ognuno di noi ha tutto il diritto in questa vita che spesso e volentieri è così difficile di dire a Gesù Gesù io ci credo in te e cerco di crederci a priori ma vieni da me comandami di venire verso di te sulle acque ossia al di sopra delle sofferenze che mi affliggono al di sopra delle difficoltà che per me da solo sono insormontabili e questa cosa accade a ognuno di noi e Gesù cosa risponde a Pietro non lo manda a quel paese non gli dice devi avere più fede e io non faccio nessun segno perché tu ti devi fidare punto no Gesù ama Pietro Gesù ama ognuno di noi e non lesinerà mai di rassicurare un cuore che gli chiede aiuto in maniera sincera e infatti cosa gli dice vieni questa scena in termini simbolici è grandiosa perché vuol dire che Gesù dicendo quel vieni attribuisce a Pietro letteralmente la capacità di camminare sulle acque ma simbolicamente e questo riguarda ognuno di noi la capacità di andare oltre noi stessi oltre i nostri limiti in lui e quindi di essere in grado di calpestare quei dolori quelle sofferenze quelle difficoltà quelle paure che fino a un attimo prima di quel vieni per noi erano inaffrontabili se Pietro fosse sceso dalla barca prima che Gesù gli avesse detto vieni Pietro sarebbe affondato invece dopo che Gesù gli dice vieni Pietro acquisisce un potere che è dato a tutti noi in Cristo Gesù ed è questa la cosa grandiosa la possibilità come è detto nei salmi di sconfiggere leoni e draghi e di camminare sopra serpenti e scorpioni a piedi nudi ok questa è la cosa grandiosa di oggi che è per ognuno di noi e qual è un'altra cosa altrettanto grandiosa quello che accade subito dopo perché mentre Pietro va verso Gesù e dovrebbe logicamente sentirsi sicuro perché dopo aver fatto uno o due passi e vedere che cammina sull'acqua di cosa vuoi avere paura dopo aver fatto questa esperienza significa che c'è totale verità in colui che è davanti eppure Pietro se la fa sotto perché vede che il vento è forte si impaurisce impaurendosi la sua fede si riduce e inizia ad affondare e lui affonderebbe inesorabilmente se non fosse ecco di nuovo l'ancora di salvezza il grido d'aiuto Signore salvami quello che ognuno di noi può dire a Dio in ogni momento di sofferenza e di afflizione della sua vita Signore salvami perché anche a noi capita che anche se abbiamo fiducia in certi momenti sentiamo che Gesù ci aiuta a camminare dove non saremmo in grado da soli ci capita di perderla questa fiducia ci capita di avere paura è umanissimo è comprensibile siamo piccoli siamo fragili noi abbiamo un continuo bisogno di amore di tenerezza e di rassicurazione e quindi spesso e volentieri da noi parte questo Signore salvami nonostante tante conferme che se abbiamo come dire l'accortezza di guardare in profondità nella nostra vita possiamo intravedere di aver già ricevuto e qua la cosa ancora più bella che a quel Signore salvami Gesù non dice a Pietro arrangiati ti ho fatto camminare adesso sbrigatela da solo no Signore Gesù tese subito la sua mano e lo afferra eccolo qua quando Dio tende la sua mano e ci afferra basta non c'è più niente di cui aver paura perché anche se affondiamo ci tiene su lui e pensate che se Gesù ha fatto questa cosa con Pietro che era lì davanti a lui che stava camminando sull'acqua letteralmente questa cosa non la faccia a ognuno di noi per ognuno di noi ogni volta che gli o chiediamo fidatevi lo fa e lo fa sempre a Pietro dirà uomo di poca fede perché hai dubitato a noi invece dirà beati voi perché avete creduto anche se non avete veduto quindi noi siamo ancora più avanti rispetto a Pietro anche quando non crediamo ma è sufficiente anche se in quel momento non stiamo credendo provarci con quel Signore salvami e nessuno resterà deluso e infatti appena si risale sulla barca della vita insieme a Gesù finalmente presente quando l'alba sta arrivando e quindi si intravede quel regno di pienezza di gioia infinita che ci aspetta che aspetta ognuno di noi il vento cessa e tutti quelli che sono sulla barca si prostrano e riconoscono la sua Signoria questo in sostanza è un po' parafrasato in un episodio del Vangelo di Matteo quella che si spera possa essere la vita di ognuno di noi magari non troppo nel suo viaggiare ma sicuramente per tutti nel suo epilogo che si spera